Camilla Conti, tu invece, perché molti sostengono anche memory di quello che è accaduto all'Università di Pisa, che questo governo abbia un po' il manganello facile. No, no, come diceva Paolo Mieli, partono le cariche quando si sale la tensione. Sono partite a Pisa, ma sono partite anche gli anni passati, anzi, a febbraio erano stati forniti dei dati. Sulle manifestazioni, sugli incidenti, alle manifestazioni e anche sui contusi. A proposito, apro parentesi, alla Sapienza ci sono stati 27 contusi fra le forze dell'ordine, fra agenti della questura, agenti della polizia e credo anche due carabinieri. Quindi, insomma, 27 contusi non sono pochi. E quei dati lì ci dicevano che, anzi, rispetto all'anno precedente, a tutto il 2023, erano più bassi. Detto questo, io credo che non debba essere superata la linea rossa della violenza. Quindi, quando la protesta verbale diventa qualcos'altro, non vada superata. La linea rossa della violenza non va superata né dai poliziotti né, tanto meno, dagli studenti, da chi protesta. E quell'altra cosa che mi veniva in mente, ascoltando sia Paolo Mieli che Montanari, è il fatto anche che non c'è... io non vedo questa volontà di confronto. Non vedo la voglia di ascoltare. Avete fatto vedere quella foto di quella ragazza con le catene che sta facendo lo sciopero della fame. Se non sbaglio, proprio lei era fra i ragazzi che non avevano fatto parlare. David Parenzo, non sto parlando di un collega della Verità o di Daniele Capezzone. David Parenzo che lavora per la Sette. Non l'avevano fatto parlare alla Sapienza. Perché non c'è la ricerca e la volontà di costruire un dialogo che invece è fondamentale, proprio su temi come questi. E quando manca il dialogo non ci può essere neanche il confronto e una ricerca, che non è solo, e chiudo, sull'aspetto militare, ma su temi che interessano anche i ragazzi. Perché quelle ricerche con le università israeliane sono anche sugli effetti del clima. Sono su temi che interessano a tutti e che con la guerra non hanno niente a che fare con le armi. Stefano Massini.